Non è così, c'è un migliato di prodotto No! No! Come vuole fare questo? Far passare l'aeroplano! Sì, grazie! Grazie raga, il MotoGP mi mancava I fuochi d'artificio Comincia, comincia la festa! C'è questa mosca, ho messo tutte le luci e tutto quanto, c'è una cazzo di mosca che non trovo Sì, la fai facile, ho messo giù tutte le tende e dietro le tende ci sono le luci a peso, c'è un caldo portuto E ovviamente finisce di muoversi appena io muovo qualcosa, c'è appena che registrare questa... Ciao! Ciao! Che incubo, che incubo! Io questa mosca sto schiattando di caldo! Me la darò perché sennò mi impazzisco, quindi me la tengo No, non è campato, io... io impazzisco... Possiamo cominciare o c'è una maledizione? No... no bacia male bacia male mosca di merda sbeva questo voglio condividerla con voi sono appena uscita gli sposi della chiesa potrebbe volerci la mezza perché smette il clax tutto il pomeriggio tutto eh ora devo girare cogliona sta pancia madonna santa oddio e che palle questa pancia oddio salto ma ne sto girando come c'è? perché sto vedi così? vabbè no hanno ragione cioè non si può girare il che cacchio giorno è mezzo giugno alle sei di sera sperando che non ci sia un matrimonio cazzo non potete rimanere accese accese cazzo invece la parola di te ora per l'ultima forse un pochino quindi l e e f o r no p no p cos'è? l, e, f, o mhm che cazzo quanto cazzo son bravo e e e no no cazzo provacciamo no, no, no beva non lo so ahhhh l, una t una c una e e l'ultima una o E' la terza? E' la terza? E' la terza? E' la terza? Adesso ti faccio quello stigmatico Tu manco lo vedi manco Madonna quanto sono nera in videocamera Non lo vedi manco con bionco Vai su Vai a preparare le patate Controllale e sciogli il formaggio Si no si no è fenomeno Dai su Quanto ti manca? Tanto Almeno 10 minuti Ah Dio santo SVEVA Sto andando a mettere Degli occhiali vuoti Questi cazzo non ho lenti Cominci Tu stai guardando se E' un minimo Ho un po' la testa tagliata ma fa lo stesso Piccola Tipo Ma sa Io ho molto paura di medici Mi sta facendo un po' male Quindi soffri di medicofobia Camice bianco Cosa Cosa? Allora 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 No No ma Cioè è un cane Non è una cimice C'è lo scortex lì guarda se vuoi Cioè in casa mia faccio No sicuro io ho Cioè io sono circa Come cazzo c'è arrivato una cimice qui Finestra chiusa sotto terra Appunto Cioè com'è? Che schifo No è enorme La vedo io è enorme Ma sti cazzi